Allora, Savaia, tripletta per te, partita difficile, abbiamo portato via a casa, tre punti importanti e Croce Fieschi dà continuità la sua classifica. Partita difficile, campo comunque pesante, siamo andati in difficoltà, loro sono bassi però giocano bene, c'è un altro filo alla torcia, però alla fine l'abbiamo portato a casa. È andata, avanti Croce, ciao.